Ora la parola a uno dei più autorevoli esponenti dell'esperienza dell'altra Europa con Cipras, Marco Revelli, è qui con noi, sta salendo sul parco. Grazie mille. Grazie davvero per questo invito a queste giornate che cadono in un momento così importante, anche così delicato per le nostre comunità interconnesse, ma anche per qualcosa di molto più grande per il nostro paese, per l'Europa. Io ho in mente un'immagine. Giovedì sera ad Atene, piazza Omonia, Alexis Tsipras appena finito un lungo discorso, la chiusura della campagna elettorale ad Atene in greco, prende la parola Pablo Iglesias, parla non più di un minuto, prima in inglese, poi in greco, poi in spagnolo, dice Siriza Podemos Venceremos. E parte dalla piazza il canto Bella Ciao in italiano. In italiano. Non solo cantato dai nostri 300 della Brigata Calimera, ma da tutta la piazza, dai greci, dalle delegazioni straniere. Ecco, io devo dire che lì ho avuto la nettissima sensazione che emergesse un dato radicale di novità. È qualcosa di radicalmente nuovo. E non solo una nuova sinistra, non solo una sinistra capace di immaginarsi di vincere, che è già una bella novità, ma una nuova politica, una nuova idea dello spazio della politica, che senza cancellare le specificità nazionali, tuttavia si pensa in un ambito transnazionale, mediterraneo in primo luogo, ma non solo europeo. Ecco, io credo che questo sia un dato che resterà, a prescindere da come vada a finire in Grecia. È un dato strutturale, culturale, che io credo rimarrà ed è per noi una straordinaria occasione, una straordinaria occasione, che sarebbe imperdonabile perdere. Voi sapete in politica quanto l'occasione sia importante. Machiavelli l'ha messa al centro questa categoria del suo principe, insieme alla virtù, perché la virtù senza l'occasione è impotente. E l'occasione, se la virtù politica non sa coglierla, fugge. Fugge, perché è rappresentata nelle allegorie rinascimentali, è rappresentata come una fanciulla dai piedi alati, che corre su una sfera, con un ciuffo sul viso, per non essere riconoscibile, e la nuca nuda, perché nessuno, una volta persa, possa riacciuffarla. Ecco, io credo che quell'occasione noi non possiamo perderla. La domanda di tutti è, Podemos in Spagna viaggia nei sondaggi intorno al 30%, Siriza si gioca il governo in Grecia. E l'Italia, questa enorme X, dove i greci e i spagnoli erano venuti a imparare la politica, e oggi rimane l'incognita. Io credo, noi non partiamo da zero, non partiamo nemmeno da tre, o da quattro, o da cinque. Anche qui sono avvenuti fatti di grandissimo ridievo e stanno avvenendo. Negli ultimi mesi ha ripreso la parola il mondo del lavoro. Abbiamo le piazze del 25 di ottobre, piazza San Giovanni, abbiamo le piazze del 14 novembre, dello sciopero FIOM e dello sciopero sociale, abbiamo le piazze, le cinquanta e più piazze, dello sciopero generale. C'è un mondo del lavoro che ha preso la parola per la prima volta, contrapponendosi a un governo che un tempo sarebbe stato considerato paradossalmente amico e rompendo un rapporto storico con quello che era identificato come il soggetto della rappresentanza del lavoro. È un dato di cui tenere conto, così come non possiamo dimenticare la gravissima manomissione del nostro assetto istituzionale con il doppio colpo dell'abolizione del Senato elettivo e di questa legge elettorale dichiaratamente, visibilmente incostituzionale con quell'accorgimento del ballottaggio che fa passare la possibilità di un premio di maggioranza spropositato a un partito che può rappresentare una parte minoritaria del corpo elettorale. Siamo in presenza di una vera e propria, io credo, emergenza democratica che coinvolge anche il partito democratico, sempre meno democratico, sempre meno partito. Io ho un enorme rispetto e stima per i compagni che continuano a soffrire all'interno di quel partito e a subire anche indegni, indegne offese. Però credo che dobbiamo ragionare a fondo sulle trasformazioni strutturali dei corpi politici e capire che è avvenuto lì una mutazione genetica che per certi versi quel partito è oggi un OGM, un organismo geneticamente modificato dal trattamento subito dal leader che lo sta trasformando in un appendice del governo e che sta trasformando il governo in un appendice del capo. Ora, questo è il problema, io credo, che abbiamo di fronte, che ci pone la questione gigantesca non di fare l'opposizione di bandiera ma di restituire rappresentanza a una parte enorme di questo Paese, al mondo del lavoro e al mondo democratico. E questa è la ragione per cui dalla nostra Assemblea di Bologna è uscito un messaggio che io credo sia un messaggio forte. dice che è necessario e urgente costruire la casa comune, una grande casa comune della sinistra e dei democratici perché le questioni sono articolate, coinvolgono sia l'identità della sinistra sia il destino della nostra democrazia i quali intendono muoversi in un quadro europeo. Questa è la formula del nostro documento nel paragrafo intitolato Il tempo è ora Il tempo è ora perché non possiamo perdere questa occasione. Ora, io non mi nascondo le enormi difficoltà che questo comporta. dobbiamo guardarci negli occhi e saperlo che è complicatissimo è complicatissimo perché non può essere la riproposizione di vecchi schemi di vecchie esperienze e di stili d'azione politica avvizziti perché si tratta di reinventare non solo un programma, un soggetto ma un modo di essere e non mi convincono le teorie, le categorie alto e basso la contrapposizione tra un processo che deve partire dall'alto o di un processo che deve partire dal basso perché è vero che è necessario e indispensabile un radicamento in basso di lì che nasce l'innovazione e dalle pratiche che sapremo generalizzare che dipenderà la natura di tutto ciò ma è anche vero che da 40 anni a questa parte siamo abituati a vedere movimenti che non trovano rappresentanza politica e non se la danno perché la politica ha una sua specificità perché la politica è uno spazio è uno spazio specifico così come non può partire solo dall'alto pagheremmo il prezzo di una riproposizione di un assemblaggio di ceti politici privi di vero radicamento la sfida io credo sta nel mezzo sta anche nel mezzo nella capacità di coniugare iniziativa di territorio capacità di mettere insieme far dialogare contaminare reciprocamente ceti politici gruppi politici culture politiche e poi in mezzo quel piano che spesso si trascure che invece è stato al centro del vostro incontro nei giorni scorsi la cultura la dimensione culturale da anni potremmo dire da decenni la sinistra ha smarrito la propria immagine del mondo e il proprio linguaggio era la forza della sinistra nel novecento quella di raccontare il mondo e di raccontarlo a coloro a cui quel mondo non andava da un ventennio a questa parte dalla vittoria del neoliberismo le sinistre hanno incominciato a usare il linguaggio delle altri il linguaggio dei propri nemici il linguaggio del nemico neoliberista vi invito a leggere questo straordinario libretto di Christian Salmon la politica nell'era dello storytelling dice esattamente questo scrive Salmon quando un ministro delle finanze parla della Francia ma potrebbe essere tranquillamente l'Italia quando un ministro delle finanze definisce rivoluzione copernicana il consenso del partito socialista all'abbassamento del costo del lavoro confonde copernico con canossa copernico con canossa io credo che questo spettacolo l'abbiamo visto un'infinità di volte in questi anni ed è ora di innovare di innovare radicalmente io non so quale può essere il modo quali siano le tecnicalità mi limito a suggerire la necessità di darsi un filo d'Arianna di darsi un filo d'Arianna a tempi non lunghissimi con una serie di tappe intorno alle quali incontrarci tappe momenti di convergenza momenti di confronto su temi culturali e temi di programma in primo luogo sul debito e poi io credo sarà la storia a incalzarci grazie grazie grazie